Buongiorno, il titolo del mio intervento di oggi è la catastrofe e lo spettatore. Vi chiederete forse il perché di questo accostamento non del tutto intuitivo per molti versi. In realtà a pensarci bene, stando al significato originario della parola catastrofe, si può dire che non esista catastrofe senza spettatore. Perché? Perché la parola catastrofe viene dal greco e significa volgere, rivoltare, ma soprattutto è una parola che nel greco antico indicava l'evento improvviso e conclusivo con cui terminava una tragedia. La catastrofe dunque nella tragedia greca è il finale drammatico della vicenda. È in sostanza quella svolta che porta alla conclusione, all'epilogo e che ne decide l'esito. quel finale di cui parla lo stesso Aristotele nella poetica, anche se non usa precisamente la parola catastrofe, ma usa altre parole tipo peripeteia o metabasis, parole che comunque indicano quella che lui definisce l'azione greca, rovina e dolore. Come ad esempio, e cita, morti che avvengono sulla scena, sofferenze o ferite esposte. Insomma, la catastrofe è l'evento conclusivo e drammatico con cui si chiude la tragedia. Ecco, ma potremmo chiederci in che senso si può dire che il racconto sia chiuso. Forse perché appunto è proprio grazie a questa fine, a questa fine che per quanto drammatica è una conclusione, che concede allo spettatore la possibilità di elaborare un senso degli eventi rappresentati. Questo è il punto. E non è un caso che Aristotele parli a questo proposito della funzione catartica della catastrofe. La tragedia, cioè attraverso l'imitazione, la mimesi, attraverso la rappresentazione degli eventi, trova una soluzione della narrazione di questi eventi che induce negli spettatori a una purificazione delle passioni. Ecco, a questo punto però potremmo chiederci che cosa succede invece con i fatti. Cioè, le cose non vanno forse diversamente quando non si tratta di appunto eventi rappresentati, ma fatti veri e propri. In effetti la differenza c'è, ma soprattutto, a ben pensare, la differenza sta proprio nello spettatore, nello spettatore degli eventi storici, lo spettatore della storia di quello spettacolo che, ad esempio, Hegel paragona a un informe ammasso di macerie, addirittura a un mattatoio, dice Hegel. Ecco, in questo caso, la differenza maggiore è che lo spettatore è anche allo stesso tempo attore. E qual è allora il suo rapporto con la catastrofe? Qual è, cioè, il rapporto di questo spettatore e attore con una fine degli eventi che dia un senso a ciò che accade? Ecco, come è noto, questo è un tema molto importante nella filosofia hegeliana. Filosofia hegeliana che, appunto, interpreta la storia a partire dall'idea che gli accadimenti storici siano volti a un compimento finale che determina, appunto, il senso di ciò che accade. Ecco, prima di Hegel, però, è stato proprio Kant a interrogarsi in maniera radicale sul ruolo di quella che Kant esplicitamente definisce la fine di tutte le cose. e lo fa proprio a partire dal punto di vista di chi è, allo stesso tempo, attore e spettatore degli eventi. Infatti, cioè, in questo testo piuttosto famoso, anche se breve, che si intitola proprio La fine di tutte le cose che Kant pubblica nel 1794, Ecco, in questo testo la figura dello spettatore è centrale e Kant inizia la sua riflessione sul tema proprio a partire da una doppia domanda, da un doppio quesito. Si chiede Kant, ma perché? Perché gli uomini si aspettano una fine di tutte le cose? In generale, una fine del mondo. E quando anche si conceda loro questo, perché, si chiede Kant, questa fine è accompagnata dal terrore. Ecco, per Kant il pensiero della fine ha a che fare con il senso ultimo, con quello che poi Hegel definirà lo scopo finale degli eventi, con quel senso che gli esseri umani cercano nel mondo e nella propria esistenza. Ecco, questo senso, questo significato, questo scopo finale è così importante per Kant proprio perché se questo scopo finale non dovesse essere raggiunto nulla avrebbe senso, tutto cioè sarebbe senza scopo. proprio, e qui è interessante osservare, come Kant si rifaccia a questo proposito proprio all'epilogo del dramma teatrale. Dice appunto Kant tutto sarebbe senza scopo proprio come un dramma teatrale senza epilogo che non lascia intravedere la traccia di alcun disegno razionale. La fine dunque per Kant, per quanto catastrofica, ha la capacità di portare a compimento gli eventi e quindi di determinare un loro senso. Ecco, ma a questo punto vale la pena chiedersi che ne è per noi oggi della fine. Abbiamo un pensiero della fine oggi? E qual è il nostro rapporto con la fine di tutte le cose? Aspettiamo ancora un senso dalla fine degli eventi? Ecco, certo possiamo dire che negli ultimi anni non siano mancati eventi che sembrano annunciare la fine di tutte le cose. Pensiamo che ne so ad esempio alla crisi economica globale o a tutti gli eventi che sono connessi sono stati connessi all'ascesa dell'Isis o alla profonda crisi in cui si sono trovate e si trovano ancora negli ultimi mesi le democrazie occidentali. Ecco, questi sono non c'è dubbio segni visibili di crisi profonde per molti versi di vere e proprie catastrofi mondiali. ma c'è soprattutto un'altra questione che è molto più vicina al significato della fine di tutte le cose. Penso all'acuirsi della paura del timore per il cambiamento climatico ai problemi legati alle questioni ambientali tutto questo è veramente credo ciò che ha davvero mantenuto alta l'attenzione negli ultimi anni sul senso della fine di tutte le cose e che ha anche in maniera forte chiamato in causa il nostro ruolo di spettatori e attori degli eventi. Non è un caso ad esempio credo che il movimento Extinction Rebellion abbia acquistato sempre più forza a livello internazionale negli ultimi anni per affrontare l'emergenza globale della vita sulla terra e per combattere l'estinzione di massa della nostra specie. Ecco alcuni di questi eventi possono senz'altro essere considerati come eventi catastrofici in senso stretto anche se a tutti gli effetti una vera e propria catastrofe non si è data e una fine di tutte le cose neppure. Va però considerato il fatto che questa per così dire abbondanza di catastrofi incombenti ha provocato forse un nuovo investimento nel tentativo di trovare risposte di trovare risposte adeguate risposte che non sono state sempre in realtà così all'altezza della situazione e che spesso si sono dimostrate essere non altro che risposte più o meno standard. penso che ne so al finanziamento delle banche con risorse statali per quel che riguarda i tentativi di affrontare la crisi economica o alla forza militare occidentale utilizzata per schiacciare l'isis o ai ripetuti tentativi di richiamare la fiducia nelle istituzioni e nei processi democratici per superare le crisi politiche degli ultimi anni o infine persino alle nuove forme di tecnologie cosiddette verdi per affrontare il cambiamento climatico. Ecco tutte queste sono in parte state o sono ancora risposte a queste emergenze ma nessuna di esse mi sembra sia emersa da una seria riflessione sul significato della fine di tutte le cose e soprattutto sul nostro ruolo di spettatori e attori della catastrofe. forse forse abbiamo dimenticato che la fine di tutte le cose non avviene soltanto all'improvviso ma richiede uno svolgimento lento dei fatti e soprattutto abbiamo dimenticato che il mondo può ancora sorprendere può ancora sorprendere sì l'umanità può sorprendere l'umanità con forme autonome di persistenza persistenza della vita ecco credo che questo sia un punto molto importante oggi soprattutto in riferimento alla pandemia che ci siamo trovati ad affrontare credo infatti che per molti versi il covid 19 possa essere considerata come una forma di persistenza del mondo forse persino la più efficace vorrei dire il virus in definitiva è un organismo ai margini della vita ecco da questa condizione ai margini della vita il virus è invece diventato parte integrante delle dinamiche globali non solo come pericolo estremo come minaccia concreta della fine ma anche come sintomo di danni ancora più evidenti non solo per la fine della nostra specie ma anche per la fine della vita in genere sulla terra e allora gli esseri umani hanno forse scoperto finalmente in questi mesi di essere solo una parte della vita sulla terra magari neppure la più la più importante neppure la più rilevante e questo nonostante gli enormi danni che ha causato con le devastanti politiche conniventi con lo sfruttamento capitalistico delle risorse naturali da un lato infatti il virus può essere trattato come un fenomeno che va al di là di una questione puramente biologica il virus non è estraneo al contesto in cui si è sviluppato e nel quale il capitalismo globale ha contribuito alla distruzione ecologica in corso le differenze ambientali che in precedenza avrebbero potuto interrompere la trasmissione degli agenti patogeni sono state oggi profondamente erose e quindi il virus ha approfittato anche azione in forme tali che ne hanno facilitato la diffusione nei modi che abbiamo potuto sperimentare non solo quindi gli agenti patogeni hanno potuto diffondersi con una rapidità prima inimmaginabile ma hanno anche potuto mutare e adattarsi a velocità accelerate che hanno dato luogo a variazioni sempre più aggressive e più più letali d'altra parte ciò che ci siamo trovati ad affrontare ogni giornata di mondo in in sospeso è stato in realtà il proriferare di una vita la cui riproduzione non solo è facilitata da noi per le motivazioni che ho appena cercato di dire ma che ha anche una sua indipendenza una sua indipendenza sconosciuta molto evidentemente gravemente pericolosa per l'umanità forse preludo di una nuova catastrofe e allora dunque ci dobbiamo credo interrogare sul nostro ruolo di viventi in questa catastrofe dobbiamo forse chiederci ma siamo solo spettatori passivi di questa catastrofe siamo solo oggetto di contagio e diffusori più o meno consapevoli del del virus ecco vale forse la pena ricordare a questo punto il fatto che Kant nel saggio che abbiamo ricordato in precedenza sostiene che ciò che è il tempo della fine è l'esperienza dell'attesa e della paura di una fine imminente da cui però è possibile ricavare una esperienza del tutto peculiare e qual è allora possiamo chiederci il senso peculiare che possiamo ricavare noi oggi da questa esperienza ci può forse venire in aiuto un passo dal saggio sulla fine di tutte le cose di Kant che trovo particolarmente interessante da leggere ecco scrive Kant l'idea di una fine del tempo è un pensiero che ha in sé qualcosa di orribile esso infatti conduce sull'orlo di un abisso tuttavia continua Kant ha anche qualcosa di attraente si tratta cioè di un pensare che è insieme terrificante e sublime in parte a causa della sua oscurità su cui la forza dell'immaginazione si esercita con maggiore potenza che nei confronti del chiarore della luce ecco credo che questo appello alla forza dell'immaginazione che sarebbe propria dell'oscurità in cui ci si trova nel momento in cui si fa esperienza del pensiero della fine è qualche cosa che ci dovrebbe far riflettere noi oggi mi chiedo allora può l'idea della fine del tempo di cui abbiamo fatto esperienza in questi mesi può questa idea esercitare una forza che vista la situazione estrema in cui ci siamo trovati e ci troviamo potrebbe condurci a immaginare qualche cosa di altrettanto potente possiamo utilizzare questa esperienza per sfruttare la forza dell'immaginazione senza il virus ad esempio per quanto tempo molte cose che ci sono apparse indiscutibili cose che sono state all'improvviso sospese e che nella sospensione sono state messe a nudo ecco quante cose avrebbero continuato ad essere considerate come necessarie e che invece appunto il virus ha sospeso penso a all'economia globalizzata del turismo del turismo invasivo delle nostre città penso alle immagini di Venezia o al traffico aereo o ai centri commerciali o ai raduni di massa o a tutta quella sociablezza da ubriachi che conoscevamo e che continuavamo a praticare senza mai interrompere ma d'altra parte penso anche alle alle scusate alle angosciose solitudini alle angosciose solitudini metropolitane all'educazione non uguale per tutti che il virus ha portato all'evidenza alle ingiustizie di classe di genere di razza allo sfruttamento e alla precarietà del lavoro ecco credo che il virus sia stata anche una prova della verità che ha rivelato se che anno dopo anno hanno sopportato l'insostenibile un insostenibile che in qualche modo è stato sospeso e è stato messo a nudo in questi mesi forse senza pure rendercene conto non ci siamo mai veramente mossi potremmo dire dalle nostre esistenze prima di ora per sentirci parte della terra una vita più ampia della nostra stessa vita e ora ora che abbiamo dovuto mantenere un contatto più profondo con le nostre vite al punto da non poterci muovere ora forse in questi mesi in questi mesi di lockdown forse abbiamo avuto l'opportunità di realizzare tutto questo ecco allora che in questi mesi con la sospensione abbiamo forse avuto la possibilità di sperimentare insieme sicuramente alla paura al dolore abbiamo forse avuto la possibilità di sperimentare la forza profonda delle nostre vite per per molti fattori ciò che abbiamo vissuto non ha nulla a che vedere con una catastrofe naturale ecco allora credo che per affrontarla in modo da sprigionare quell'immaginazione a cui fa appello Kant quell'immaginazione che proviene dal senso della fine di tutte le cose che pure in qualche modo abbiamo esperito forse dobbiamo valorizzare la stessa forza di sospensione che ha avuto il virus se la nostra la nostra quella forza della competizione individuale a cui a cui eravamo abituati in qualche modo in forme diverse nelle nostre vite precedenti ci aveva impedito di capire di vedere le nostre esistenze a vite solitarie a una socievolezza vuota forse allora abbiamo in qualche modo compreso come soltanto una cooperazione collettiva ci può permettere di utilizzare la forza dell'immaginazione quella forza dell'immaginazione che può permetterci di inventare forme di vita nuove ecco io credo che di fatto nessun potere dall'alto può funzionare in ciò che è stata definita la guerra contro il virus una guerra che in realtà non è tale io credo piuttosto che soltanto una mobilitazione dal basso può veramente valorizzare quella che a tutti gli effetti è stata una forza di contenimento del virus e quella forza che è propria di ciascuno di noi e che forse oggi possiamo trovare il modo di manifestare e questa manifestazione forse può avere luogo soltanto attraverso un approccio collettivo un approccio collettivo che si prenda cura insieme delle parure che sono parte integrante della vita di ciascuno di noi che ci permetta di trasformare le parure in una potente espressione di di forza immanente alla vita alla vita che è propria delle nostre voci dei nostri corpi di di quei corpi che in questi giorni sono uscite di nuovo nelle strade e sono uscite nelle strade non solo per entrare nei negozi ma anche che hanno riempito le nostre metropoli per gridare insieme con george floyd i can't breathe non posso respirare dopo averlo guardato morire in un video da spettatori ma che si sono trovati a riempire le strade con le mascherine non evidentemente soltanto da spettatori passivi e neppure da attori di una storia che è volta ad un compimento assoluto un compimento finale di un senso ultimo quanto piuttosto come esistenze fragili ma pronte a condividere di volta in volta la forza della vulnerabilità che è propria delle nostre vite ma che è anche propria di quella vita più grande che è la vita sulla terra di cui noi uomini e donne non siamo soltanto che una piccola parte grazie